Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna, due chilometri di coda tra Calenzano e la variante di Valico per un veicolo in avaria. In direzione Roma, rallentamenti tra Baldarno e Arezzo per interventi urgenti alla pavimentazione. Sulla Fipilì a causa di lavori ci sono code in entrambe le direzioni tra Montelupo, Fiorentino e La Strassigna. Per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirrenia provenendo da Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!